La legge numero 18 entrata in vigore nello scorso mese di maggio ha riorganizzato il servizio idrico integrato in Calabria istituendo un'autorità unica regionale della quale, oltre ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, faranno parte i rappresentanti di altri 35 comuni. La riforma da attuarsi per una migliore gestione delle acque è un tema di stretta attualità sia per la carenza di approvvigionamento idrico di queste settimane causata dalla siccità, sia per le problematiche legate alla depurazione che acquiscono le criticità lungo le coste, proprio nel pieno della stagione balneare. Per questo la provincia di Cosenza, per iniziativa di Francesco Gervasi, consigliere provinciale con delega al servizio idrico integrato, ha organizzato un confronto con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni comunali. All'incontro, introdotto dal presidente Iacucci, hanno partecipato anche l'assessore regionale Franco Rossi e i consiglieri Franco Sevgio e Domenico Bevacqua. Il 17 settembre i sindaci sono chiamati a votare per la costituzione dell'Assemblea dell'Ambito in un momento in cui anche il riferimento alla siccità, ai problemi, alla depurazione, costituire l'ambito per la gestione del servizio idrico integrato, secondo me, è un fatto indispensabile. È arrivato il momento di rilanciare il sistema idrico e la legge impone l'adesione di tutti i comuni al Laic e dà questa grande e straordinaria opportunità. Dobbiamo fare attenzione che non diventi uno dei soliti carrozzoni. Salvatore Bruno per la Cineus 24